Il progetto MaterSos è un progetto ambizioso, in quanto si è posto l'obiettivo di realizzare materiali da costruzione ad elevato contenuto di riciclo. I materiali da costruzione sono normalmente materiali energivori ottenuti da materie prime naturali e quindi la possibilità di utilizzare scarti provenienti da altre lavorazioni per ottenere materiali da costruzione è stato un obiettivo virtuoso. Sono stati utilizzati scarti di diversa natura provenienti da diverse filiere di produzione. Abbiamo utilizzato scarti di vetro, scarti del settore ceramico, scarti dell'industria alimentare, scarti derivanti dal riciclo di pneumatici a fine vita. Questi scarti sono stati utilizzati per realizzare calcestruzzi, betoncini, adesivi e piastrelle ceramiche ad elevato contenuto di riciclo. Il pacchetto costruttivo che è stato realizzato è sicuramente un ottimo esempio di come si possono realizzare materiali da costruzione ad alto contenuto di riciclo. Grazie a tutti! Grazie a tutti!